Ed eccoci qui, con questa fantastica giornata di sole, che adesso vi farò vedere, con questo panorama visto, con questo sole, intendo come potrei starcene a casa, o meglio io, se non potrei starmene a casa, perché devo studiare. Che bella la storia! Che bella Laura, la versione estiva, e tutto è niente, torno a sfugliare, che è meglio, che è almeno qualcosa di utile faccio.